Ciao a tutti amici, questa è la guida per ottenere il rank S nella missione 6 di Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Prima di iniziare la missione, distruggetti il radar di sorveglianza aerea per sbloccare la zona di atterraggio in mezzo alla base. Vi consiglio di iniziare la missione alle 18. Con la mitragliatrice dell'elicottero, distruggetti il cannone antiaereo e la torretta. Approxing enemy outpost. Hold on, boss. Entrate nelle rovine e raggiungetelo nei B. Per arrivarci, salite i gradini per arrivare al piano superiore e proseguite ad est, scendendo il pendio e raggiungendo il ruscello. Il lanciarazzi si trova in una delle stanze dietro ad una cassa. Che cosa? 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 Ehm... Ehi, guardate? Ehi, guardate! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.